ciao a tutti bentornati in questo video non era preventivato devo dire la verità è un video solo a schermo perché ieri è successo veramente il finimondo ragazzi finimondo sul mercato delle cripto appena finito è concluso il video della trading view che come sempre pubblico per quanto riguarda bitcoin e lunedì dico che la situazione è pericolosa ed è battuto giù ma pesantemente non tanto bitcoin devo essere sincero che continua a essere un grande titolo difensivo quanto l'intero mercato delle hat coin che sprofonda e possiamo dire sicuramente profondo rosso per quanto riguarda il mercato delle cripto due qualche considerazione in generale è un grafico in questo video settimanale sarà un video molto breve cercherò di farlo diventare breve perché è un video special per il canale youtube perché credo che in questo momento tutti quelli che stanno nel mercato delle cripto si fanno tantissime domande anche se il 14 di agosto allora intanto la prima informazione da guardare la market cap scende sotto i 200 miliardi e praticamente si è ridotta del 60 70 per cento dai massimi dello scorso anno direi quasi un disastro ma questo non è che sia tanto strano perché sapevamo che all'interno del mercato delle criptovalute c'era tantissima fuffa tantissime alt coin tantissime eco che erano completamente inutili da eliminare abbiamo detto che doveva esserci e insomma sarebbe stato importante una fase di consolidamento da questo punto di vista bitcoin dominanza al 54 1 per cento ragazzi bitcoin rappresenta più della metà dell'intero mercato delle criptovalute bitcoin è il mercato delle criptovalute inutile che giriamo intorno inutile che ragioniamo su altro perché questo mercato che ancora non ha una funzionalità a livello sociale ed economico è difficile ancora inquadrarlo per cui tutto il resto questa diversificazione diciamo nei mercati delle cripto non serve a niente non serve a niente perché nel momento in cui io non ho neanche idea di dove andrà un mercato cosa faccio mi concentro solamente su quello che è il più forte di tutti perché semplicemente rappresenta il mercato quindi bitcoin rappresenta il mercato delle criptovalute ma badate bene quello che è successo qui guardate qui nelle market cap la top ten delle market cap se noi includiamo anche io so per dire ma anche il titer perché dovete includerlo in quella market cap c'è anche il titer che in realtà non è neanche una cripto se noi prendiamo le top ten praticamente è il 90 per cento del mercato quindi è del motivo anche perché su trading on io non ho mai pubblicato analisi di altro tipo se non sulle top ten ma neanche insomma tutte del mercato delle cripto perché inutile andare a guardare questo tipo di movimenti quando poi il mercato lo dominano esattamente le prime quattro cinque cripto ma volevo farvi vedere anche una cosa molto importante guardate qui il change 24 ore quello che è successo bitcoin fa meno 6 ed è praticamente la migliore cripto se si esclude chiaramente il titer quelle legate all'usd già ethereum pesantemente il ribasso quasi meno 20 così anche bitcoin cash ripple insomma non si fermano più anzi facciamo una cosa guardate qui se vediamo appunto queste sono le cripto che hanno fatto le performance migliori bitcoin quarto posto ma le altre sono legate all'usd quindi sono praticamente inutili da valutare e guardate quindi quello che possiamo dire quindi abbiamo bitcoin poi queste piccole cripto quindi la seconda super cap che diciamo ha fatto meglio di tutti è stellar ma stiamo parlando già di un 10 per cento di ribasso insomma se poi giriamo il quadro andiamo a vedere qui le pesanti perdite in 24 ore di tutto il mercato guardate qui che cosa è successo veramente incredibile un crollo incredibile anche il binance coin che aveva tenuto moltissimo negli ultimi tempi insomma è andato giù pesante allora piccole conclusioni da questo punto di vista sì piccole conclusioni sì allora intanto un guarderemo adesso un grafico di bitcoin per due cose che volevo dirvi l'altra cosa molto importante che è agosto agosto le mani forti hanno campo libero stanno facendo di tutto e di più per abbattere questo mercato inutile ragionarci molto non reggono neanche le big whales perché i vari gli indicatori vai non mostrano una riduzione da parte delle big whales di bitcoin quindi non sono loro a fare a creare questo tipo di ribasso ma probabilmente è la grande finanza che cerca di abbattere questo mercato come sta tentando di farlo a dire la verità da tutto il 2018 ci riuscirà o meno beh i muscoli si fanno lottando ragazzi e quindi se bitcoin ce la farà sicuramente sarà il mercato del futuro però che sarebbe arrivata questa fase lo sapevamo lo avevamo accennato a gennaio io vi avevo vi avevo detto che non sarà facile per gli holders ho pubblicato diversi video sugli holders e sul fatto che chi facesse uso solo di quella tipologia di strategia era veramente in una morsa e doveva stare molto attento e vi ho anche detto come li fregano eccetera eccetera anche quel video è stato molto criticato e anche molto apprezzato da tantissimi di voi ma come sempre la verità è difficile da capire è molto meglio a volte mentire però non è quello che facciamo sul trading on quindi attenzione gli holders perché questo mercato è nel mirino dei grandi istituzionali che lo vogliono abbattere cercheranno di stordire tutte le persone di allontanare il numero maggiore di persone dal mercato delle cripto e poi faranno quello che vogliono quindi l'hanno sempre fatto hanno fatto così in tutti i mercati quindi attenti perché noi non siamo in condizioni di poter competere ovviamente con i grandi istituzionali del mercato passiamo a vedere il grafico settimanale di bitcoin quindi che cosa è successo è successo che questo rialzo che era stato questo qui giusto per intenderci questo rialzo che era stato diciamo che era partito da dai primi di luglio quindi il mese di luglio è stato un altro fake guardate come ha impattato sulla trendline discendente media mobile sul grafico settimanale si vede alla grande e poi c'è andato a fare un altro minimo minimo che tra l'altro se voi vi ricordate doveva essere qui in questa fascia di prezzo invece l'ha un po' allungato e ieri ha toccato un nuovo minimo quindi tutta questa fase continua a essere parte di questo ciclo ribassista iniziato a febbraio allora che cosa ci indica intanto abbiamo 1, 2, 3, 4 minimi non lo so ragazzi il quadruplo minimo è una figura di inversione che mai vista insomma sì c'è ogni tanto però non ha una grande affidabilità il rischio che bitcoin vada giù è veramente molto molto alto inutile prenderci in giro però guardiamo quello che potrà succedere se non reggono i 6.000 dollari se non reggono i 6.000 dollari bitcoin ha un primo livello di stop attorno ai 5.000 più o meno quindi in questa fascia di prezzo poi ci sono 4.500 e poi si scende a 3.500 tutta questa fascia è molto molto potente una fascia di supporto importante senza disperare e senza essere falsi ottimisti bitcoin è in una situazione rischiosa come ho detto ieri quindi tutto il mercato delle cripto lo è considerate che la stragrande maggioranza delle altcoin che ieri hanno perso il 20% sono confluiti diciamo in bitcoin quindi i capitali sono confluiti in bitcoin per questo vedete una bitcoin che non va giù tantissimo rispetto agli altri quindi quello che potrà succedere intanto è questo questa settimana si concluderà a domenica quindi dovremo vedere domenica qui dove saremo come candela intanto importantissimo che non venga rotto il minimo e soprattutto non venga confermato in chiusura settimanale se fosse già così questa candela settimanale poi della prossima settimana si potrebbero valutare delle eventuali reazioni ma attenzione non mettiamoci le pezze davanti agli occhi la situazione è molto pericolosa io resto neutrale per quanto riguarda bitcoin non ero entrato long non ero entrato short perché ovviamente ancora non lo faccio nella parte trading è tutta fuori da questo mercato non ho altcoin se si escludono bitcoin cash ma pochissimi è il famoso chat che ce l'ho solo per quanto riguarda i dividendi per la struttura dei dividendi per il resto non ho nessuna altcoin nella trading on academy mi fate tantissime domande relativamente al portafogli e le gestioni di portafogli io spero e credo di rispondere nella maniera migliore possibile ovviamente il trading è difficile e a volte le risposte che vogliamo non si possono dare per cui non è cattiveria ragazzi è solo che non esiste quella cosa e quindi ponetevi un obiettivo uno solo proteggere il vostro capitale il più possibile quindi mi raccomando una strategia di protezione da queste fasi perché non dovete uscire completamente dal mercato perché il mercato vi rimbalza in faccia e poi a un certo punto questa parte negativa diventa enfasi emotiva positiva stranamente in due giorni cambia e via quindi sempre sul mercato ma giocate molto di gestione della posizione è tutto lì è tutto lì come dico sempre sul canale trading on quindi ragazzi questa settimana è importantissima vedremo cosa farà se questa candela chiude così mi sta anche bene ma attenzione perché è difficile questa fase siamo ad agosto stanno facendo di tutto per abbattere questo mercato inutile girarci intorno noi ci rivediamo in settimana mi raccomando tenete diciamo forte questo mercato però attenzione a stare dentro ad occhi chiusi perché non è così che si fa sul trading non è così che si fa sulle gestioni delle posizioni il mercato ha sempre ragione voi dovete sempre prendere in considerazione il mercato e stare sul mercato nel miglior modo possibile mi raccomando ciao a tutti e buona